Musica Un saluto dall'amministrazione comunale, un ringraziamento per avere il professore Biava come ospite e a tutti gli amici qua presenti in una cornice stupenda come quella del nostro Oltrepò. Siamo qua oggi per presentare un libro di un argomento assolutamente molto importante e anche di grossa attualità perché come voi saprete i problemi dell'amianto non sono assolutamente superati, anzi. Io mi fermo qua semplicemente passando la parola a loro, mi riservo però poi dopo la presentazione del libro di chiedere qualcosa di tecnico perché in prima persona sono stato toccato da questa malattia, come tanti sicuramente qua sapranno, ho perso mio padre 11 anni fa proprio di questa malattia. Per cui mi riservo poi di chiedervi qualcosa di più tecnico. Grazie. Mi è presente, io sono Fabrizio Guerrini, sono un giornalista della provincia favese e ho accettato l'invito per l'incontro di oggi per tanti motivi. Il primo motivo è l'autore di questo libro, il professor Pier Mario Biava, che è riconosciuto a livello nazionale come uno degli studiosi d'avanguardia nel campo della ricerca oncologica sotto un profilo assolutamente alternativo rispetto a quelli che sono, lo dico da profano, gli schemi classici di approccio alla malattia, che è quello terapeutico nel senso che anche a livello di senso comune conosciamo. Diciamo che si va nella psiche della malattia, quasi quasi. Però non entriamo poi il professore che dovrà spiegarlo. L'altro motivo è che effettivamente questo incontro si inserisce, come diceva giustamente il sindaco, in un contesto ambientale e di salute ambientale molto forte. Il professor Biava, come aveva modo di approfondire discutendo con lui, è stato tra i primi a valutare quali sono gli impatti delle malattie nei sistemi, negli agglomerati di lavoro, nel rapporto tra malattia e ambiente. Da qui l'intuizione che il mesotelioma si creava lavorando, aveva una forte connessione con la lavorazione dell'amianto. Questo scoperto negli anni 70 dal professore a Trieste, mentre osservava i lavoratori del porto di Trieste. Quindi siamo agli albori, addirittura, prima di quando si sarebbe poi potuto intuire la portata del problema. Perché negli anni 70, noi sappiamo, e lo sa il sindaco, e lo so anch'io che sono di Broni, l'amianto era considerata un materiale assolutamente sicuro, inifugo, isolante, si isolavano le scuole, ci sono ancora le scuole foderate da mianto, perché si considerava la non pericolosità di questo materiale. E anche l'economicità della produzione in larga scala. L'esempio l'abbiamo a Broni, dove il cementificio, la fibrolit, è sicuramente uno dei monumenti più drammatici alla fatica e al dramma. La consapevolezza di questa situazione, negli anni, l'ho raccontato anche il mio quotidiano, ormai da dieci anni che ci occupiamo purtroppo di questa triste notizia, anche oggi sono dedicato a ampio spazio, a un'iniziativa che verrà presa da alcuni familiari delle vittime dell'amianto. Abbiamo avuto l'esempio di Casale Monferrato, dove con maggior forse insistenza si è portato davanti un discorso di prevenzione e di bonifica globale, e senza dimenticare che l'amianto, come abbiamo scritto ancora 15 giorni fa, è ancora sui nostri tetti. Lui ho fotografato tetti di stradella, fu ancora coperti con l'amianto, con fibre volatili, e la percussione di queste fibre è tale e quale quella degli anni 70. Quindi c'è un problema di consapevolezza ambientale da parte di tutti, perché un tetto coperto da ammianto è una minaccia per chi ci abita, ma anche per i vicini di casa. Quindi l'appello che il mio giornale ha fatto insieme alle amministrazioni è che ognuno si prenda carico di questo problema e spenda quello che c'è da spendere, ma è la miglior spesa possibile. Io ho fotografato un tetto vicino a casa mia, vicino a una scuola, e io spero che il proprietario si faccia carico di risolvere questo problema. Ancora più grave quando il problema l'hanno i comuni. Quando magari, come è successo a Broni, al liceo, poi la situazione in parte è stata risolta e siamo dentro a una scuola. Quindi parlare oggi, scusate, fermo questa premessa, ma però premeva anche questo chiesone per lanciare ulteriormente questo appello che il mio giornale sta insistendo nel fare. L'amianto c'è ancora. C'è ancora necessità anche di capire cosa comporta il rischio. Ecco dove arriva, ed è il motivo per cui siamo qui oggi, perché il professor Biava ha un'altra valenza, qui è anche vicepresidente nazionale del WWF, qui c'è anche il presidente nazionale, quindi mai come oggi, in questa giornata, noi possiamo valutare qual è lo stretto impatto, la stretta correlazione tra ambiente, bellissimo oggi l'ambiente, e la malattia, il dramma, il lavoro, la fatica. Quindi vedete come si, quando gli storici fra cent'anni studieranno questa fase della nostra vita, non potranno non dedicare certo un aspetto, quello che è stato l'impatto di certe malattie sociali, nel cambiamento, nella distruzione a volte di intere generazioni. Il professor Piemario Biava ha scritto un bel libro, ma lo dico perché quando mi è stato presentato un libro che si intitola Il cancro e la ricerca del senso perduto, pensavo di trovarmi di fronte a un formulario medico, io quando ero in collegio avevo colleghi che facevano medicina e io facendo lettere mi spaventavo un po', non mi spaventavo, vedo questi tomi di fisiologia, insomma, sembrava una materia di appesante da approfondire, queste formule sulle lavagne che continuavano a fare. Invece è un libro che parte in maniera molto dolce, siamo a Trieste, l'atmosfera è quasi da svevo, questo mare, c'è qualcosa, affascinante, c'è questa camminata sulla spiaggia del professore e uno dice cosa c'entra col cancro tutto questo, però è rilassante, uno inizia il libro pensando, finisce male il libro perché si parla di cancro, invece comincia bene, va avanti meglio, comincia bene perché uno legge e dice ma guarda, come si fa a parlare di cancro in questa bella giornata? di cancro in questa bella giornata, Grazie a tutti.